Il 29 giugno ha spento 100 candeline Giuseppe Severino, classe 1921, nato a Castellabate, primo di sette figli, agricoltore con grande passione che riguarda l'intreccio di tutte quelle erbe che si possono ricavare in campagna e da cui si possono creare cesti, cesti che peraltro fino a poco tempo fa realizzava personalmente e per lo più regalava. Sposato con Giuseppina Capezzuto, dalla quale ha avuto cinque figli, quattro femmine, di cui due gemelle e un maschio, fino a qualche anno fa il passatempo preferito di Giuseppe era recarsi ogni sera presso la piazzetta di Castellabate per giocare a briscola con i suoi amici. Una persona garbata, riservata, ma allo stesso tempo una persona molto di compagnia, racconta la nipote, che dispensa sempre ottimi consigli per tutti. In vista di questa occasione speciale, i nipoti Piero e Teresa e le pronipoti Vittoria e Azzurra hanno scelto di regalare al nonno una targa con su scritto, per il tuo centesimo compleanno spero che tu continui a mostrare il tuo ottimismo in ogni momento di veglia e che continui a essere un'ispirazione per tutti quelli che incontri. Buon centesimo compleanno! Non sono mancati gli auguri del figlio sulla sua pagina Facebook, con le foto scattate insieme a tutta la famiglia. A mio padre, che ha raggiunto un traguardo importante, con grande soddisfazione e orgoglio da parte nostra, abbiamo unito in una foto quattro generazioni, da mio padre che compie cento anni a mio nipote che ha quattro mesi. Ringrazio tutti quelli che hanno avuto un pensiero in questo giorno, anche se non sono potuti essere presenti a causa delle difficili situazioni. Grazie a tutti. La redazione di Cilento Channel porge i migliori auguri a nonno Giuseppe, un nonno amato da tutti, saggio e ottimista, che trova sempre il lato positivo delle cose, ricordando una delle sue frasi preferite. Chi si fa i fatti suoi, campa cent'anni.